Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia e con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che in verità scorre regolare su tutta la rete autostradale toscana in Fipilì, da segnalare quindi solamente alcuni cantieri sulle strade principali. Sul raccordo Bettolle-Perugia per esempio scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo di Foiano della Chiana in entrata in uscita in direzione Bettolle. Sulla statale Una Aurelia invece scambio di carreggiata tra Scarlino e Venturina in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Follonica-Est in entrate e in uscita in direzione nord. Chiudiamo con i cantieri della città di Firenze per lavori di ripristino. Fino al 16 dicembre saranno in vigore i divieti di sosta e transito e sensi unici in via Reginaldo Giuliani, via del Sodo, via Braccini e via Baroni. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!